Finalmente, dopo quasi un mese, le strade a cui era stato tolto il bitume sono state riasfaltate. In questo periodo la circolazione di autoveicoli e motocicli si era resa estremamente difficoltosa. In varie arterie e cittadine si erano aperte preoccupanti voragini che avevano messo alla prova l'abilità dei conducenti. Causa del ritardo dei lavori, il maltempo, anche se, lamentano i cittadini, erano auspicabili interventi di ripristino temporaneo data l'emergenza che si era venuta a creare.